Eccomi, il tuo nuovo eDucato. 100% elettrico, 100% Ducato e con zero emissioni di CO2. Sono qui per darti buone notizie per la tua flotta. Sono arrivato. Dopo più di un anno di analisi e studi con dei veri professionisti, posso assicurarti che le mie batterie funzionano molto bene. La mia esclusiva architettura è l'unica ad offrire la modalità recovery che permette alla tua attività di non fermarsi mai. Questo sistema è così affidabile che offro anche un'incredibile garanzia fino a un massimo di 10 anni sulle mie batterie. Le mie emissioni di CO2 sono pari a zero e i miei costi di gestione sono più convenienti rispetto a quelli delle mie versioni diesel. I costi legati ai consumi sono fino al 75% più bassi e quelli di manutenzione sono inferiori fino al 40%. Quindi, se ciò di cui la tua flotta ha bisogno è un veicolo flessibile, efficiente, affidabile, sia per il trasporto di merci che di persone che per essere allestito, con un ottimo costo totale di acquisto e utilizzo. Siamo sinceri, sono il Ducato perfetto. Non credi! Il Ducato. Il miglior Ducato di sempre per la tua flotta.